Codice Cerchi un manufatto Lascia che dimostri la verità Inizia, stai bene? Ricevo strani segnali Basta Ehi, devi uscire da lì Ciao In passato volevi uno dei miei manufatti Ma oggi sono qui per parlarti del futuro Segui Lydia Fry Lei ti porterà da me Dario Dove si trova il secondo storm? A un'ora, al massimo. Cosa? Tranquillo, hai soltanto il generatore ci penso. Sarebbe l'indagine più approfondita. Ecco. fermatevi non è molto gentile anche in tempi travagliati non dobbiamo mai trascurare la cortesia giù le armi a quanto pare seguivamo la stessa preda miss fray vi ho battuto è vero e ve lo riconosco temo però che non abbiamo estirpato il problema alla radice c'è un'altra radio venite con me se non vi dispiace bisogna trovare l'altra radio presto nuove ondate di zeppelin oscureranno il cielo siete a corto di soldati vero se ora metterete a frutto il vostro indiscusso talento al tower bridge avrete la gratitudine della nostra nazione io preferirei il diritto di voto sappiamo di altre spie al tower bridge se voi le trovaste potreste ottenere informazioni sulla seconda radio ovunque si trovino di sicuro avremo guai con il vostro talento non avrete difficoltà a individuarli attraverso Sì. Oh Oh Qui si parla della rata Oh Oh Ci sono quasi La radio è vicina al fine Ma questo non basta Oh Buon appetito! 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 di quando ero lord dell'ammiragliato. Non sempre ho agito nell'ombra. E suppongo che questo successo vi riporterà alla gloria. Abbiamo inflitto un colpo al nemico, ma Londra pullula ancora di spie tedesche. Adesso c'è un nuovo gruppo, diverso da tutti gli altri. Sono così convinti da rasentare il fanatismo. E voi credete che io possa eliminarli? Esatto. Non oso avvertire il signor Asquith senza prove, ma credo che siano una concreta minaccia. Se ve ne occuperete, vi do la mia parola che quando sarò di nuovo in Parlamento farò di tutto per cercare di appoggiare la vostra richiesta. E come sapete, un voto è più letale di proiettili e spade. Un tempo vivevo sulla Terra. Nacqui nella casta degli Illuminati di Feiyan nell'anno 2.195 dell'era Iso. Oggi percorro le vaste vie delle macchine, qui, dentro il grigio. Ma ora sono più forte. Il mondo è quasi pronto per il mio ritorno. Così ti ho attirato in questa simulazione, per raccontarti una storia. La nostra storia.